Passare dallo scrivere da una tastiera normale ad una tastiera split è stato un vero trauma. Su questo formato di tastiera esistono tantissime dicerie, dicono che hanno un'ergonomia migliore, questa ergonomia ti aiuta a migliorare il mal di schiena, a ridurre lo stress al collo, ti fanno diventare più produttivo, ti fanno diventare un uomo migliore, ti fanno diventare milionario. Ma cosa è vero e cosa è falso? Questa che ho tra le mani è una Lily58 Pro, una tastiera splitted, quindi divisa in due parti comunicanti tramite un cavo. Me l'ha mandata Core dopo avermi rotto le scatole su Instagram per un po' per sapere tutte le mie configurazioni preferite e alla fine l'avete scelta voi. Con un paio di sondaggi su Instagram avete scelto il colore, questo viola, bellissimo, con anche il cavo abbinato sempre realizzato da Core. Cavo di collegamento che ha un jack tipo cuffie, un TRS da 3.5 mm, che serve a far collegare le due parti, a farle comunicare. Oltre i colori del case avete scelto anche gli switch che mi avrebbe montato Core e hanno vinto i Black Lotus. Vi dico la verità, tra quelle nel sondaggio avrei preferito forse i Morandi, non perché li preferisco, ma perché i Black Lotus ce li avevo già, i Morandi all'epoca del sondaggio non li avevo ancora provati, quindi avrei preferito forse i Morandi. In realtà poi dopo i Morandi li ho recuperati. In generale i Black Lotus li preferisco, ma se dobbiamo considerare il rapporto qualità-prezzo, i Morandi per quel che costano sono assurdi. Prima di continuare con lei, io sono Nicola Sayano, qua sul canale parliamo di tastiere, ma non solo, anche di PC, gaming, gadget, tecnologia in generale. E se ancora non l'avete fatto lasciate un mi piace a questo video e se volete supportarmi iscrivetevi al canale. L'impatto che ho avuto con la tastiera Splitted è stato traumatico. Non so se esiste una parola migliore del trauma, l'ho collegata e ansia. Con una Alice che è tutta unita e più o meno ha un design, diciamo, una disposizione di tasti abbastanza simile, anche se le tastiere sono un po' più vicine, è stato pesante abituarsi, ma con un po' di tempo ce l'ho fatta. Io personalmente con una Splitted ho fatto una fatica incredibile, non tanto per quanto riguarda la parte degli Alpha, perché lì, a dire la verità, con anche un paio d'ore le mie mani si erano abituate, tanto i tasti sono sempre lì, quanto per la parte del fatto che tutti i tasti modificatori sono da 1U, quindi tutte grosse un tasto, la disposizione di layout di default è leggermente diversa, il control e lo shift di sinistra sono invertiti, e tutta la parte di punteggiatura, io uso la punteggiatura tantissimo facendo il programmatore, scrivo tantissimo codice che ha necessità di punte virgola, virgole, le graffe tonde, quadre, ecco, usare la punteggiatura su una tastiera del genere, non tanto perché sia Splitted, ma più per il fatto che è una 58, quindi pochi tasti, devi usare layer, il mio cervello andava in pappa, ho proprio fatto una fatica assurda, e infatti poi mi sono stancato, l'ho usata un po' per la parte di scrittura, quando dovevo programmare la toglievo e andavo un'altra, non riuscivo proprio fisicamente a entrare nella modalità, ho scoperto essere un mio limite da questo punto di vista. La cosa davvero interessante della Lili 58 è un progetto open source che si trova su GitHub, volendo, se siete folli potete prendere i progetti, farvi stampare il plexiglass, andare a creare le PCB da soli, e avreste voi la vostra tastiera dopo che avete saldato tutto il kit, tutta la roba, ed è un progetto molto interessante anche solo per migliorare quelle saldature, perché se lo prendete da zero e non da Core che offre anche il servizio di saldatura, dovete stare lì a saldarvi i diodi sulla PCB, saldarvi i socket 8 su app, e tutti i pin per inserire il microcontrollore. Mi sarebbe piaciuto tantissimo provare ad assemblarla tutta, saldando tutti i diodi, però non avrei avuto tempo, infatti Core me l'ha inviata già saldata, e non solo saldata, anche proprio già assemblata con switch e keycaps. Infatti se acquistate il kit da 120€, sono comprese anche tutte le saldature, e se nell'acquisto ci aggiungete anche switch e keycaps, vi arriva proprio già assemblata. Esistono diverse colorazioni, oltre a questo viola c'è anche l'arancione, il giallo, è in prevendita il nero che ho visto, che sembra molto figo, il nero opaco, e in tutti i kit è compreso il cavo di collegamento che viene realizzato sempre da Core. La struttura della tastiera è molto semplice, è una base in acrilico con delle viti con degli standoff che tengono in alto la PCB, su cui è appoggiato un altro strato di acrilico che fa da plate, e abbiamo un pezzo di acrilico con degli standoff che stanno sopra il microcontrollore. Nel kit potete scegliere se prendere l'RP2040, o se lasciarlo senza microcontrollore per aggiungere un vostro microcontrollore. I microcontrollori sono due, uno nella parte split di sinistra, e uno nella parte split di destra, con due Type-C. In base a dove andremo a collegare la Type-C, la parte di collegamento diventerà il master e l'altro diventerà lo slave, motivo per cui serve questo cavo di collegamento tra le parti, in modo da avere sia corrente sia la trasmissione dei dati al master. L'unica cosa che dovete tenere a mente è che il master è anche la parte che ha i tasti legati alla mano sinistra, quindi se voi collegate la parte destra all'USB, i tasti saranno invertiti. Si può utilizzare in realtà anche al contrario, a QMK via, quindi basta riconfigurare QMK per avere tutti i tasti come volete voi, quindi potete configurarlo a piacimento. Però la PCB è davvero molto bella e ben realizzata, poi le saldature di core sono perfette. Non so dove l'ha realizzata, dove l'ha fatto realizzare le PCB, però una delle alternative, se voi volete realizzarla col progetto GitHub della Lily, potrebbe essere lo sponsor di questo video, ovvero PCBWay. Infatti con PCBWay potete caricare i vostri file per una PCB, andare a scegliere tutte le impostazioni, i colori della scheda, occhio che nel mondo delle tastiere, aziende che fanno PCB, è davvero difficile che montino Yacht Swap, quindi sì, la PCB è difficile che gli facciano le saldature degli Yacht Swap. A PCBWay non è solo PCB, realizzano anche progetti di stampa 3D, progetti con la CNC, piegatura dei metalli, hanno davvero un sacco di servizi utili, e hanno la parte che io preferisco, il loro marketplace con tantissimi progetti fatti da creator, con video che potete trovare anche su YouTube, dove scegliendo un progetto potete andarlo a ricreare con i loro servizi e una piccola commissione del carrello andrà a chi ha caricato il progetto sul marketplace. Qua giù nella descrizione trovate il link di PCBWay e andate a darci un'occhiata. Una delle parti che trovo più fighe della tastiera, a parte proprio il design, l'estetica, che fa sembrare una tastiera estremamente steampunk, una roba tanto geek, tanto nerd, una roba molto complessa, e un pochino lo è anche perché se ci pensate che potreste prenderla per stare lì a fare tutte le saldature, è che abbiamo anche due display sulle due parti sopra il microcontrollore, dove possiamo vedere un po' di dati, la nostra velocità di scrittura, ci sono solo le scritte della Lili 58, e anche quello fa tanto, è molto bella quando è accesa, ha una marcia in più. E devo dire che mi ha sorpreso anche dal punto di vista di resistenza dell'acrivico, ormai io ce l'ho da due mesi circa, e l'ho maltrattata tantissimo, perché non avendo una confezione dove metterla a una forma un po' strana, l'ho sempre lasciata in giro, e l'acrilico è perfetto, non ha graffi, non ha nulla, l'ho subito spevicolata appena mi è arrivata, ed è ancora perfetto dopo due mesi di maltrattamenti, ed è tanta roba, ho avuto tastiere in acrilico che si sono danneggiate anche solo a guardarle. Essendo tutti i tasti da 1U di larghezza, non abbiamo stabilizzatori, quindi è una build completamente senza stabilizzatori, in questo caso non mi focalizzo tanto sugli switch, ne abbiamo già parlato in altri video, sono i Durock Black Lotus, per me ottimi comunque stock, hanno davvero un bel suono. I keycaps che abbiamo qua sopra, un set clear, completamente clear, anche questo non ha aiutato nella prima fase della scrittura un po', perché è difficile trovare dei set che abbiano abbastanza tasti da 1U, che per coprire una 58, è un formato non comune, quindi molto spesso si prende un set e si utilizzano tasti impropri su alcuni, quindi non abbiamo il tasto dell'invio da 1U, non abbiamo la barra spezzatrice da 1U, prendo un qualsiasi tasto in più nel set e lo metto. E' quello che mi ha fatto corso con questa tastiera, quindi non potevo neanche le prime volte guardare i tasti, perché erano anche sbagliati le leggende, oltre al fatto che un set clear si vede molto poco la leggenda, con i giochi di luce, e quindi mi ha fatto uscire pazzo. Infatti adesso andiamo a sentire come suona e registrerò ora, che non la utilizzo da quasi 2-3 settimane, che l'ho abbandonata perché avevo un sacco di lavoro da fare e non riuscivo, ero troppo lento per i miei gusti a scrivere con questa tastiera, quindi adesso sarà un disastro, registrerò 20 minuti di prove, per tirare fuori almeno una prova da 30-40 caratteri al minuto, in modo da darvi un suono decente. da un certo punto di vista il lato sonoro mi ha sorpreso, mi ha sorpreso non perché sia la tastiera, oh mio Dio, che suona meglio in assoluto, ma perché non mi aspettavo comunque un timbro di questo tipo, una qualità sonora da una tastiera che è completamente aperta, non ha nulla per cercare di migliorare il suono, questo è proprio un kit fatto per sperimentare, voler saldare, è un kit fatto per avere qualcosa che è comunque figa, cioè il layout, il design, il disegno proprio della tastiera, le forme, sono belle, messa sopra una scrivania fa la sua porca figura e sicuramente qualsiasi amico viene in casa vostra e vede una tastiera del genere, vi prenderà per pazzi e ci rimarrà un attimo sorpresi, diciamo come cacchio la utilizzi. Dal punto di vista di ergonomia, tutta la parte che dicevo all'inizio, sì, ha effettivamente, io ho notato, un po' come il mouse verticale, il fatto di poter posizionare le due parti della tastiera dove vogliamo, con la giusta angolazione, con la parte, vi permette di trovare una posizione con la schiena decisamente migliore. Ora, da qui a dire questa è una tastiera super ergonomica che migliora, vi riduce, il mal di schiena vi riduce, non lo so, perché d'altro canto è anche vero che una volta che trovate la posizione perfetta è molto facile, sono molto leggeri queste parti, si spostano, quindi magari alla lunga vi trovate da che eravate in una posizione perfetta a un lieve slittamento che vi porta a spostarvi di nuovo con la schiena e quindi alla fine perdete molto i benefici. Quello che invece ho notato tantissimo è che a livello didattico, per migliorare con le due mani separate, soprattutto sulla parte degli alfa e dei tasti, non prendo la parte di punteggiatura, perché usando i layer è un po' diverso, però per quanto riguarda la parte degli alfa, e cavolo, vi obbliga a lavorare bene, non potete fare cose tipo la gilla vado a prendere con entrambe le dita, una volta con la sinistra, una volta con la destra, no, vi obbliga a tenere una diteggiatura corretta e questo secondo me è tanta tanta roba. Dal mio discorso penso che voi abbiate già estrapolato i difetti, però voglio riassumerli. Non è una tastiera facile per chi inizia, sicuramente richiede tantissimo tempo per abituarsi, per comprendere il funzionamento dei livelli, dei layer. È una tastiera che vi porterà via del tempo, sia che solo per impararla, ma anche per montarla, se non scegliete l'assemblaggio da core, per stare lì ad assemblarsi tutti gli hotswap, tutti i diodi, richiede un po' di tempo, la parte dei controllori, però può essere un'ottima tastiera dal punto di vista didattico, se volete migliorare quelle saldature, può essere un ottimo kit di partenza. E nonostante l'abbia trovata davvero molto resistente a livello di plastica, è comunque una tastiera a strati, completamente aperta, quindi nel lungo periodo si può danneggiare più facilmente qualcosa che va sulla PCB, se vi cade dell'acqua, mentre ce l'avete lì sulla scrivania, cose che non dovrebbero succedere sulla scrivania con un computer, però potrebbero capitare, sicuramente rischia di più perché è aperta. Per il resto però a me è piaciuta davvero tanto e probabilmente per colpa di core mi toccherà poi in futuro prendere qualche altra versione particolare di tastiera, anche solo per collezione, perché sono piaciute tanto. Trovate il link della tastiera qua giù in descrizione, c'è ancora il mio coupon SAIA5 attivo, è valido anche sulle tastiere, ma non solo, è valido su tutto lo store di core adesso, quindi qualsiasi cosa aggiungete al carrello usate il coupon SAIA5, avrete 5% di sconto. Fatemi sapere la vostra qua giù nei commenti, se avete mai provato una tastiera split di questo tipo o con dei design particolari, volete raccontarmi la vostra esperienza, fatemelo sapere qua giù nei commenti. Io vi lascio a due altri video sul mondo delle tastiere, uno, quello col video dove vi spiego la differenza tra layout ISO e layout ANSI, perché è un dubbio che rimane sempre in testa, meglio farci un video dedicato, ve lo consiglio. E poi visto che stiamo parlando di tastiere estremamente particolari, vi lascio al video della Kindle Star Aquila, una tastiera 60% con un design estremamente particolare. Noi ci vediamo a un prossimo video.